Nicola Molteni, che cosa chiede il sindacato autonomo di polizia? Il sindacato autonomo di polizia è un sindacato che è in prima linea, da un lato per garantire sicurezza ai cittadini, dall'altro lato per garantire dignità alle forze dell'ordine. Siamo di fronte al peggior governo della storia di questo paese, un governo che ha smantellato la sicurezza, un governo che chiude 250 presidi di polizia, un governo che chiude 70 presidi della polizia postale, chiude 74 presidi della polizia di frontiera, è il governo degli svuotacarceri, è il governo delle depenalizzazioni, è il governo di Mare Nostrum, è il governo dell'invasione, è il governo degli indulti mascherati. I cittadini hanno paura, i cittadini vogliono più sicurezza, più sicurezza significa più libertà, questo governo con il ministro Alfano e con il ministro Lorenzi hanno totalmente cancellato quei minimi livelli di sicurezza che i nostri cittadini necessitano. La Lega è in prima linea, per noi la sicurezza insieme al lavoro, insieme all'occupazione, insieme al problema delle tasse sono i problemi e le necessità prioritarie, prima la sicurezza dei cittadini e poi tutto il resto. Io credo che sia una battaglia fondamentale che noi faremo insieme a Matteo Salvini ripristinando i livelli di sicurezza per i nostri cittadini.